Buongiorno FTO Online, avvio positivo questa mattina per la borsa, con il Fuzzi Mib che al momento guadagna lo 0,8% circa, siamo intorno ai 18.870 punti, un tentativo di rimbalzo interessante è che questa mattina ha permesso il superamento di una prima resistenza significativa, quella che si colloca a 18.830 punti, diventa possibile a questo punto il test di area 19.000, ma soprattutto un tentativo di ricopertura del gap ribassista lasciato per prezzi 30 gennaio intorno a area 19.280, quindi positivi nel breve termine, a meno di movimenti nuovamente di sotto di area 18.800. Tra i singoli titoli, questa mattina abbiamo poste italiane in rialzo, siamo intorno ai 5,93-94, ieri i prezzi hanno disegnato un dojo, ossia un elemento sul grafico a candele giornaliere con apertura e chiusura coincidenti, tale elemento compare spesso in prossimità di punti di svolto importanti, vedremo se il rimbalzo di oggi avrà un seguito, tanto per cominciare dovremo assistere per avere una conferma positiva al superamento della linea tendenza che scende dal massimo di inizio gennaio, linea che ha fornito il limite superiore per il canale discendente che i prezzi hanno seguito nell'ultimo mese, la resistenza si colloca intorno ai 6,10-6,15, al di sopra di quei livelli ci sarebbe un segnale di forza interessante che permetterebbe alle quotazioni di puntare al ritorno nella parte alta del trading range disegnato negli ultimi mesi e che si colloca intorno ai 6,45, quindi un titolo da seguire con attenzione questo poste italiane che potrebbe dare delle soddisfazioni almeno per quello che riguarda il breve termine, tutto questo a patto che le quotazioni si mantengono al di sopra dei minimi di ieri a 5,80 Euro. Interessante questa mattina anche Mediaset sale del 1,17%, siamo intorno ai 3,98 Euro, come per poste italiane nella seduta ieri sul grafico candele giornaliere, è comparso un elemento incoraggiante, ovvero sia un martello invertito, aperture e chiusura molto vicine e posizionate nella parte bassa del range di seduta e lunga coda verso l'alto, ovvero sia un'escursione stesa tra i massimi di giornata e la chiusura. Vediamo che questo martello invertito è comparso in prossimità dei minimi del 23 dicembre a 3,85 Euro, un supporto che evidentemente il mercato ha riconosciuto come valido, a questo punto sarà interessante vedere se la fase di rimbalzo in atto sarà in grado di superare le linee di tendenza che parte dai massimi di dicembre e che passa intorno ai 4,16 Euro. In caso di superamento di quei livelli sarebbe possibile il tentativo di riposizionarsi nella parte centrale del range delle ultime settimane, quindi intorno ai 4,45 Euro, ma anche il ritorno sui massimi del mese di dicembre a 4,80 Euro, fino a che ci manteremo a di sopra di aria 3,85 Euro, quindi il titolo è interessante, i più prudenti possono aspettare la rottura di aria 4,15 Euro, 4,16 Euro prima di intervenire al rialzo, in ogni caso le posizioni andrebbero protette e poi con uno stop da attivare subito al di sotto di 3,85 Euro. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il consueto commento giornaliero.